Musica Hola hola hola, io sono Max dei Barrofronzo Benvenuti ad una nuova puntata di Max contro Naxx La serie di Earthstone dove io tento di picchiare tutti quanti i boss di questo cazzo di Naxx Ramas Come potete notare dall'orologino qua sotto è passato veramente molto tempo dall'ultima registrazione E quindi così, siamo contro Taddeus che è il risultato del più terribile e crudele esperimento in tutto quanto il Construct Water Che non è come pensavo io all'inizio erroneamente un quartiere pieno di macchine ma è un quartiere pieno di cose costruite Quindi zombie, esperimenti, mutagini e merda varia Taddeus che se tanto mi da tanto avrà 500 milioni di punti ferita ha anche questo potere che è Polarity Shift, cioè in versione di polarità cambia l'attacco e la salute di tutti quanti Minium Squadra che vince non si cambia Tra l'altro l'immersione di polarità può riferirsi anche a quella là tipo terrestre Però non ho... perché c'è già il potere che si illumina? Questo mi da... Io devo obbedire La tua vita sarà mia, la tua anima sarà mia Solo è anima, non vita Sì, perché altrimenti sarebbe life Bene Ah, 30 punti vita Strano Allora, io farò così Perché se tanto mi swap la cosa è un 2-3 quindi ci guadagni in costituzione È buono Ah, ok No, ma che cazzo 3 danni con overload 1, quindi lui sarà 1 anche il prossimo turno Però, nel senso Adesso i casi sono 2 O gioco... no, sì Perché poi avrei potuto giocare anche questo qua Ma è una creatura singola soggetta a sparo singolo Mentre invece se io gioco 2 creature Questo qua ha almeno l'imbarazzo della scelta Benissimo E adesso cosa succede? Con uno di mana cosa mi giochi? Un Death Rattle che ristora 5 salute al eroe nemico Che in questo caso sarei io Questo qua da... Guarda, quasi quasi Io farei così Perché il mio mostro sopravvive Il suo muore E io ripristino 5 di salute Che schifo non fanno Dato che io ho perso troppa vita per farmi male da solo Tra l'altro questo qua è ritornato a 2 Che era il valore di forza e costituzione iniziale Quindi ecco E siamo ritornati a 3 turni fa Però lui ha un po' meno di vita Questo qua gioca a carte da sciamano Allora abbiamo Più 2, più 2 Possiamo giocare tutto Però non giocheremo tutto Perché giocheremo questo Cioè sì, lo giocheremo tutto Ma non nella maniera che intendete voi Questo qua in maniera tale che peschiamo Che è una carta che ci fa pescare solo se la creatura muore E questo qua che dà più 2, più 2 a un minion Quindi lo diamo a un minion qualunque Dopodiché lo attacchiamo con tutto Bisogna sempre ricordarsi di far pulizia Perché noi non sappiamo che cazzo vuole fare L'eroe nemico con quello che noi abbiamo in campo Quindi per cui Innanzitutto Innanzitutto pulizia se si può Questo qua evoca cose con taunt Con il taunt taunt Questo qua di va in shield E dunque Dovremmo tentare di fargli più danni possibile Con cose meno Eh però dovremmo insomma far così perché Questo qua crepa perché pazienza Possiamo uccidere questo Così non sprechiamo danni Evoca un'altra cosa con taunt Se non mi ricordo male Sì Di nuovo questo qua Questa creatura non la sacrifichiamo Perché è veramente importante Ora possiamo giocare tutti quanti i nostri minion Anzi Non giochiamo quello Ma giochiamo questo Perfetto In maniera tale che non rimanevamo Praticamente con uno di mana Che ci avanzava lì Swap all'attacco e la vita di tutti i minion In questo caso di nuovo ci guadagno Lui fa due danni o tre a tutti quanti Quindi muoiono tutti quanti Ma questo risorge E questo rimane vivo Perché ci aveva divine shield Quindi nessun problema Ecco lui fa due danni Però ha due random enemy minions E quindi sti cazzi Va bene Non ci potevamo fare molto Ora Io gioco questa Potrei giocare questa Ma avrei tre mana che mi avanzano Quindi è meglio giocare questa in singolo Gli diamo più uno più uno e protezione Così lui è costretto ad andarci contro E come sapete Quando si distrugge questa cazzo di Oh che figata Quando si distrugge questo cazzo di minion Vengono fuori delle cose Però lui ha avuto la mia stessa idea Meno male che io non sono costretto ad attaccarlo Faremo così Faremo così E addirittura peschiamo Avremmo dovuto pescare prima Ma pazienza Boh Boh ci è venuto un soulfire che quasi quasi Gli spareremo in bocca Per il semplice fatto che il soulfire Fa scartare carte E dato che noi vogliamo massimizzare il danno che facciamo Tentiamo praticamente di tenerci più carte possibile Tanto siamo in aperto vantaggio in questo momento Bella questa carta cazzo 2-3 danni a tutti quanti Potrebbero morire tutti Se ci dice culo Però se ci dice anche culo Ci viene anche noi in 4-4 Vediamo un po' Naturalmente gli unici che va più 2 Non sono quelli che vogliamo King dead alla open Think master Blablabla 1-1 più 5 Fa 7 Quindi adesso noi Posizioniamo questa cosa in campo Peschiamo In caso ci arrivasse un altro soulfire No ma ci arriva un'altra carta Che è ottima Direi di fare così Che non facciamo pulizia Ma abbiamo creature più grosse Se per caso lui gioca un altro sparecchino E facciamo così Perché bisogna fare pulizia Nonostante ci sarebbe potuto convenire Fargli ancora più danni Ma io ho un'altra doomguard in caso Mentre lui no Swappa l'attacco e la vita Forte Zombie ciao Deathrattle Da un altro minion più 3 di salute E Deathrattle Blablabla Se non gioca altro Abbiamo vinto Non può giocare altro Perché non ha più mana Ne carte 3 più 1 fa 4 Più 5 fa 9 Abbiamo vinto anche contro questo figlio di puttana Vedete come sono bravo Che adesso me la calcolo prima Grazie Perché ci ha ringraziato LOL Vittoria Ci ha dato tra l'altro Silence your other minions Cazzo E si sblocca anche il tesoro In seguito Ma adesso quello che ci piace È vedere praticamente Nelle class challenge Quello che possiamo fare Considera... No Aspettate il cazzo Considerato che non è altro rimasto da dire Lasciatemi un mi piace a questo video Se vi ho intrattenuto E si Considerato che non è altro rimasto da dire Da Max di Barrow Frondzani ossa todos Ciaoias Ciao 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 Grazie.